Romano Fenati, grazie a tutti, una nuova vittoria oggi in Austin, tu vieni qui nel 2016, tu vieni qui oggi, questo è quasi il vostro cammino di casa. Sono americano, no, la mia moto è stata incredibile oggi e nel start, abbiamo messo nuove tire in fronte, questo mi ha aiutato a spettare un po' più inizio della gara. Quindi, un nuovo anno, una nuova vittoria, la prima vittoria del anno, e spero che sia solo la prima. Ma per sicuramente, ora stiamo a concentrare in Jerez, è una strada difficile per me, perché nel testo in winter abbiamo trovato un piccolo problema, ma per sicuramente abbiamo lavorato e abbiamo trovato il modo. Per sicuramente, tu eri fortunato, perché nella seconda vittoria, la prima vittoria è stata totalmente diversa, quindi tu eri fortunato con la flaga rosa. Sì, sì, per sicuramente, eri fortunato per il start, perché ho iniziato meglio e per sicuramente è un'altra possibilità, no? E eri fortunato. Per sicuramente, in due settimana, in Jerez, cominciamo la torre europea. Sì, in Europa è più facile, per sicuramente, ma l'Europa è sempre una strada difficile, perché è un grande gruppo, il circuito è difficile, quindi vediamo. Sì, possiamo dire che, finalmente, Romano è tornato. Sì, per sicuramente. Grazie. Grazie. Grazie.